Eccolo l'ultimo mondo Guarda là Si parte Oioi Si ritorna a 5 vite L'ultimo mondo top eh mi sa Io ho fatto di tutto Di tutto per cercare Ho visto su tiktok Un tiktok Un super mario rifatto con Con Michael Jackson Ok Ho fatto di tutto per scaricarmi la skin Di Michael Jackson che quando Che quando attacca fai Bella Non ci sono riuscito niente Peccato Mamma mia Un labirinto sotterraneo praticamente Un potere oddio godo Dai Che bordello è Oddio checkpoint Oh oh Chissà se si possono ammazzare Le megatal Eh a me il checkpoint L'ho preso nel culo Ehi Fermo Non voglio rischiare Sospicis Mi piace che hanno Gli occhiali da sole Uh Perché non ti piace? No no mi piace Perché ridono Cammino e hanno gli occhiali da sole Che cazzo Ci credono un botto Oh oh Vabbè facciamolo Vieni vieni Di qua Di qua Di qua Di qua Godo Oh oh Intrappola Ok Qui arriva uno stronzo Sicuro Eccolo Oddio si è intrappolato Si è buggato qua Ok Facciamolo de spawnare Top No stronzo Ah Oh oh Ok Dunque oggi mi si è buggato Zelda Prima volta in assoluto Nella mia vita In che occasione Ma è tipo Si era buggato una texture dello scudo E poi è crashato Una cosa mai vista prima Aspetta che vuoi però fare Da riportare Da riportare questi bugs Dovevo fare la storia Chissà se Chissà se me lo mandano Ops Se me lo mandano Come si chiama il nuovo Tears of Kingdom Eh chissà Io la storia gliela faccio Tu hai fatto la storia Per Per il voir Eh no Non ancora Oh Ma sono tornato indietro Ma su PS5 c'è Si No dai Non ho detto niente Su PS5 c'è Ehm VR chat Chat E possiamo giocare insieme No Perché io non ho il PSVR Ho il Ho il Il coquest Cosa c'hai? L'Oculus quest Oh oh Di meta Quindi possiamo giocare Ma come non credi proprio Dai brossas Ovunque Non c'è su PS5 Merda Grazie alla mia fine C'è solo su PC No non c'è solo su PC Ecco tu Oddio livello doppio Va bene C'è livello doppio Io lo chiamo così Ma livello con due uscite Mmm La polenta no La polenta C'è Roblox sul PS5? C'è il Miugino mi pare Ma come gioco? No no Come amicos Eccoci Sono grande Sei più forte di tutti Senti Di cosa si parla? Dove cosa si parla? L'argomento è La community Le nostre community No epico Che rapporto abbiamo Con le nostre community Non solo A livello web C'è tipo Ti ha livello musicale anche Con il tuo pubblico Eccetera Rapporto con il pubblico Che poi credo che Noi almeno Siamo Tra i più La tua unità Differenza Di molti altri creator Sì possiamo parlarne Con Con cognizione di causa Diciamo Ah qui c'è una Roba che serve per Yoshi Uh Che c'è Che Uh Tel Hai visto che segreto? Eh no In ritardo io Oh Damma A me invece piace Il Il Bisellaccio A me piace Il deserto Quello arido Quello con Con Le Le crete a terra Ok Non so se è qui L'entrata segreta Raga Comunque io provo No secondo me Ti fa uscire dal mondo E basta Eh lo sapevo Effettivamente bene Sei un grande Grazie Speriamo Speriamo mori Di nuovo In questo posto Di merda Eccolo L'hai gufata Eh Mi avevi detto Che ti stavano Simpatici Sì sì Vabbè ma dico Tessi cazzo Perché non li conosco Non so A persone con la quale C'è un rapporto Posso permettere Di insultarti Ma è tecnicamente Il contrario Però Se prendono Contro di me Non credo Non hanno No aspetta Aspetta Masarone Poi Sì Però Ma poi Non capisco Perché Si circonda Di persone Di personalità Comprendenti Diverse Dalla sua Po Lontanissime E ci si diverte Ci fa cose strane Poi tipo C'è stato un periodo In cui Mi dice Andiamo A mangiare Sushi Certo Dove A Como Che cazzo Fino a Como A mangiare sushi Sono un'ora e mezza Di macchina Eh ma c'è il sushi Più buono D'Italia Fai con chi Con chi Un giorno Tipo Se ne esce No siamo io Surry Bagnato Masarone Social boom Ma che cazzo De Combo è Ovvio Ti dico De no Usciamo tra amici Va bene A Como A Como A Como A Como Grazie Edo Chissate Poi dove l'ha sentita Sta cosa di Como Che c'è Sushi Ma chissà chi Ma ci ha fatto pure un vlog Non so se l'hai visto Addirittura C'è un vlog su YouTube Di lui che va Alborco giù Dall'inissale Che lui va Al ristorante a Como Con Su No Chi era C'è Drumox Sicuro E su YouTube Sul suo canale Fra Il Sakura Di Como Spacca Fra Mamma mia No Non c'è più il video su YouTube Che è successo C'è solo imbucato al Gran Premio di Monte Carlo Bello Aspetta Sospicius questo No È un inganno Cosa ne pensi del Runet King Eh bro Ho sbagliato tutto Epico Aspetta Parliamo di Warcraft No Danni ci sta giocando Credo Danni è un No No mamma Ok Ce l'ho fatta No Di cosa parliamo Allora Cos'è il Runet King No Quello è il Lich King Vabbè Uguale Dai bro Guarda Fra 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 Oh Eh beh Il Runet King È un oggetto di Di League of Legends Mi piace passeggiare senza meta Ogni tanto Ogni tanto A me piacciono le belle passeggghe Verso casa Sì a me piace il ritorno a casa Perché sai che ti aspetta La salvezza Tipo a me i treni di ritorno Quando devo tornare dai luoghi A me sono i più ridastanti di tutti Tornando a casa Sì sì Beh Si può fare dire Tirare fuori un botto di metafore No 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 Ti posso fare una domanda E quando Quando torni a Roma È come torna a casa Per un viaggio di ritorno Oppure no È un'andata In realtà Viaggio di scoperta Perché Roma Mi cambia sempre davanti gli occhi Quindi ogni volta È È un chissà com'è Chissà com'è Roma Al mio ritorno Eh? Sì Eh Cioè niente Rimango sempre Ogni tanto un po' deluso Ogni tanto Dipende dal mood che ho Dalla voglia di affrontare il caos Le lunghe strade Porco tu sei Dammaggia la mattana Eh Ti va adesso Il mio migliore amico Ha un figlio Ah sì Me l'avevi detto Tra l'altro Il mio amico di infanzia Non so quando me l'avevi detto Ma Me l'avevi detto dire Porco due Madonna che bravo E madonna che stronzo Blu blu Venga mantenuta questa identità Io lo abbrucio l'Italia Eccoci qua Ha mani nude Come Nerone Nerone di Roma Dai dai Ma hanno dei cazzoni questi Dei cazzoni con lo scudo Ancora loro Il nino si triccio L'elettricerato Guarda la voglio rischiaffare Ecco qua La voglio rischiaffare Fino all'ultimo Così Mamma mia che ansia Grazie Kinowo Tecnicamente Perché prima non mi permetteva Cos'è Backdoor Ah puoi entrare nel castello di Bowser Dall'entrata sul retro Cioè quindi c'è anche un finale alternativo Non mi ricordavo niente di questa roba Aspetta però mi conviene morire qua In generale Sì mi conviene morì Per ricaricarle i cinque vite Vai Oddio lui Sì si esplodono Ah no Sì questi cacavano mi pare A mi me gusta ballare lì ma web Va bene Un checkpoint oh Checkpoint Oddio Boss Oddio Bowser Junior No questo è Bowser proprio Perché pensai che la di Eh perché quella di solito la usa Bowser Junior Eccoli Ah minchia devi prendere Devi far raggio Aspetta Eh difficile Guarda che stronzolo Oddio si reattiva Vieni 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 Ah Goto Preso Preso Qual è il primo videogioco che ti ricordi Dopo che finito sta cosa Eh il mio primo videogioco Sonic Spinball Oh Eccola È il mio forsello Bellissima l'animazione di Peach Minchia non mi ricordavo nulla Il libro della giungla in floppy disk Ah no Ti colpisce Pensavo bisognasse usarla come piattaforma Ma bisogna semplicemente evitare i pericoli Eccoci Eh però ora fa dei movimenti diversi rispetto a prima Pattern diversi Eh si è riattivato a mano mia Dio Cristo Colpito Si la gamma è tosta Bellissimo però Ah ok Terza fase Merda Ora fiamme E lui Non era proprio il caso No l'ho perso Si vabbè Poi Vabbè è morto Porco due Preso Levati dal cazzo Goto Eccoci Finalmente finito Sì vabbè Andrea c'è mille cose da fare Ancora Grazie Si fa lo bombio lo passi No Va bene Ma su chi poi No 有一ai Intensi Y Perso Ganso Z finish UPM E Esti Dwi Non Luis Da Men Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, da un po'? Il bestiario? Fatto le foto? Volcano Lotus, Jumping Piranha Plant, Amazing Flying Hammer Brother, vabbè, Super Koopa. Gusto di Rai preferito, Tortellini. Sumo Brother, Monty Moe, Pookie, Ballot Bill. Pallotto lo vedi. Banzai Bill, Rex. Bello, Banzai Bill. Banzai Bill è più bello di tutti. Ma poi guarda, è bella la cromatura. Sei brillante, sempre lucido. Dino Rhino, Koopas. No, Tortellini, sconditi, poi se vuoi ci metti sopra quello che ti pare. Spiketop, Swooper, I.G. Swoopers. Banzi Beetle, Larg. Cazzo, ora prendo l'enciclopedia con tutti gli artwork, è troppo bello. Blurps, Urchin, Horku Puffer, Torpedo Ted. Rip Van Fish, Belli Torpedo Ted. Bo, Belli. I boo, the big boo, Irius, Fishing Boo. Twimp si chiamano quelli piccinini. Grinder, Grinder. Reznor di merda. Me, 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 me. La sorca me puzza, me puzza la sorca. Me puzza la sorca. Ma che come passa? Puzza la sorca, me puzza la sorca. Me puzza la sorca, me puzza la sorca. Me puzza la sorca, me puzza la sorca. So se era questo il testo. Eccoli! Grazie Kid Brew, Giocoso, Gabriello e Ludopazzo. è venuto batto mi sa che non si può schippare qua ok allora procediamo ah stai continuando si devo finire tutto 100% e poi zeldone ha fatto a run completa voglio averla su twitch poi faccio mario land 2 quello con wario il mostro finale oh oh vabbè mamma mia che brutto questo godo la goderia ecco qua sei uno stronzo però qua mi hai fatto la puzza mi hai fatto la puzza no non dovevi fare la puzza qua hanno chiamato tutti hanno chiamato che è che è sa che bisognava fare eh lo sapevo bisognava fare diversamente prima la penultima eccola è lei me lo dissero anche quando provarono il mio livello di solito si mette nella penultima porta la strada chissà se c'è una strada alternativa sì sicuro eccola qua guarda no in realtà no quella è un'altra cosa mi dissero eh di sicuro la strada l'ha messa nella penultima porta come si fa di solito infatti c'era avevo ragione inconsciamente l'avevo messa lì ah queste sono le piattaforme dove poi hai un secondo questo quattro secondi queste sono geniali come piattaforme terribile ma bellissimo terribile ma grandi come Harry Potter no Valdemort Timone chi è io? dove vai? io da nessuna parte sto guardando qua no cosa fai dove sei ah se stai la mia risposta sto guardando te ecco qua vai quattro secondi no mamma non mi hai contato la bevita ma basta un salto ehi no hai gestito benissimo pronti 19 quello è il ballo da vittoria funziona di brutta rosso merda oddio le rocce minchia tiravano anche le rocce oddio la paletta proprio e poi ti inseguono pure nemici più forti no forse c'è un pisello lì vabbè pace uh zecro fa meglio un po' ma giungo su whatsapp quello della minaccia vediamo in faccia ma sarà cosa sarà uno smurf account di lussori sicuro eccolo eccolo c'è la foto coi figli aia conosco la faccia dei figli ah ma non ah no che c'è scritto aspetta c'è una descrizione ti seguono forse come non dare informazioni magari ok cos'è informazione della storia eh ma moio qua guarda 100% c'è la lava qui in fondo vabbè dai tutto sospetto pippi ecco qua no ma è meglio se muore josh guarda come affonda nella lava poveri no 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 aspetta che devo fare una cosa no non ce la fai mica aspetta devo trovare un'altra soluzione non è vero la danno a chi a chi è para loro l'hanno data i mates non hanno mai fatto 10.000 invita loro certo invece ma quando all'inizio appena hanno sentato i suoi twitch te lo giuro come è fatto il trofeo adesso perché tra l'altro sono te eh una surca ah si vera però ciao yoshi perché quello trofeo faccio mettere scena anche io ho vinto il trofeo è vero ci hai vinto grazie un disco d'oro quale? un disco d'oro ah si è vero è vero ecco la oddio e come si fa grazie 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 a porto venerdì un disco d'oro Madonna santa ormai Però sono tutte diverse queste fortezze Madonna che stronzi Basta Ma che giro fanno Si è Allora Coraggio Possiamo andare un po' avanti? Grazie Guarda che pezzo di merda Guarda che infame Guarda che infame Mamma mia raga Ora che cazzo c'è Ehi Fermo Eh certo Certo Kamek che ti spawna nel viso Ci sta sempre bene Forza Ma muori merda Se mori No no Bisogna farlo respawnare Chi no te Ok Top Merda Ecco qua Madonna che ansia Ma poi milioni di ro... Eh si è il tempo pure Cioè ma come... Di qualsiasi categoria Ehm... Non lo so Ma tipo un record Guinness Che personale Boh Ha su qualsiasi cosa Una volta ho fatto la carbonara Il migliore della mia vita Vabbè è quello Capito Ci sono molte categorie Non so E se in breve la PlayStation Manca Ah no Capito manca Porco due Porco Tre Basta Ah no c'è la X Però la X è Sulla scintilla Dai vatti dal cazzo No No Mai Dai 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 Porco due Oddio no Ecco qua appunto Potevo frullarlo eh Cos Dai Bravo Dario Dai Veramente Vai giù Oh Grazie Valo Marema Puggiana So Gioca pure un altro gioco Molto interessante Se mi mette a dare Piacerebbe Cioè Si chiama Ah Sull'altro schermo Vabbè Si chiama Project Downfall Ho già sentito E poi poi gioca Stardew Valley Allora ora c'è La front door Però Ora devo fare Quella cosa con Yoshi Stronzissimo Stronzissimo Fatto Ok Adesso Non mi ricordo niente Merda Non Vabbè Facciamo perdere Quindi non posso tornare indietro se muoio Quindi ho quattro vite e sono cazzi miei Ah mamma mia Si ho già bello e perso Si Solo che è veramente pieno di nemici Cioè Yoshi Oddio Yoshi Ho capito amico mio Però Così sei stronzo e basta Poi i tubi Poi li vedrò Oddio Among Us con Blur Facci una triste Ma chi me l'ha mai chiesto Ride Evil Vabbè Among Us con Blur Ok Adesso dovrei aver collegato tutto Però mi manca qualcosa Non è possibile abbia finito tutto Perché c'è l'entrata alternativa Oh No Ci vola anche Yoshi Ci vola anche Yoshi Ma che è Ma no no Ma era Ma era per ridere Oh Special word Mamma mia Mamma mia Sarà un inco Ecco qua Dai Spatti amici Chai Piano perché tanto ti fregano Piano 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 Ok Che è sta roba Ah ok Perfetto Ottimo Dario perdi Tra un pochino perdi Facciamo così direttamente E beh Bravo Dario Godo figli di troia Poi Non iniziare con le tue cazzate Così da Oh raga Mamma mia che figli di indrocchia Veramente Ah Seo Ma voi siete pazzi Completamente Ecco qua Ovviamente devi stare attento Infatti col picco mombeota Però Il significato più o meno è qui Lì sotto c'era Rapale Boh raga è veramente devastante Uff Mamma mia Infamissimo Stavo anche cercando già gli altri Gli altri palloncini Uh Oh Salvataggio Allora Qui faranno Delle Eh infatti Delle infamate Secondo me Però Eh tipo questo Dai ma questo è proprio Cioè Questo è try or die Cioè ma come cazzo fai A vederlo Ci devi morire Forse col volo Potrei superare qualcosa Vabbè Non farò domanda Diciamo che puoi fare questo Però le corde sono il disastro Forse ti puoi saltare in capo Ma non vorrei provare Sicuramente No Comunque ci saranno i disa- Ci saranno i disastri anche qua Secondo me Ah no Strano Poi dove mi Ah Ok Che cazzata però Scusa eh Ah ma sto ancora volando Ma che cazzo vuol dire Che sto ancora volando Ah ora non più Ah perché ho mangiato il guscio viola Giusto E allora andiamo via Vabbè ragazzi Ma Ah hanno messo delle barriere invisibili Guarda ogni tanto però Sì vabbè Servono a poco Aia Aia È andata Non so cosa è successo Che rabbia mi fa venire Eh Dobbiamo portare pazienza Almeno prendi un sacco di vita In quel punto lì Questo è l'unico vantaggio Aia 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 Grazie a tutti. Ok. Non ce la fa nemmeno a camminare, guarda, perché è scivoloso. Non si salva, ovviamente. Ah, meno male, va. Questo sembra il primo livello, ma ci saranno le inculate finali. Aspetta. Proprio questo mi stavo chiedendo. Dai, mangio, mangio, Yosh. Ah, questi nuovi. Perfetto. Ah, già. Mamma mia, che palle, veramente. Però è già più tranquillo. Aspetta gli altri, almeno me. Ecco. Almeno quello. Va, va, affanculo, va. Mondo. Si chiama questo livello. Va, va. Bella la corrente. Bello. No, mi piace già, eh. Si esordisce bene. Si presenta bene. No, ma sale l'acqua. Ok. E te, faccio una cosa a questo punto. Bravo, ecco. Ammazzarmi nel pesce. Niente, niente. Si può passare di qua. Dai. Dai. Ridanne. Dai, levati dalle... Vabbè, lasciamo perdere. Aspettate, ci sono. Voglio provare. Vado. Io non rischio. Ecco qua. Quanto male ci può passare, però almeno abbiamo scoperto questa cosa. Non state lì sopra, bravi, così vi schianto tutti i bastardi, infami pezzi di merda. Vado. Eccolo, il nostro amico finale. Madonna, se ti piglio. Vado. Madonna, se godo, amico mio. Grazie, Peders. Uff. Oddio, quelle fiammele lì? Oddio, orrende. Orrende, paurosissime. Eh, ma ha preso la fiammella. Sotto il medie queste fiammele qua. Ok. Uff. Questa è da stronza, Mishi. Questa è da... Eh, Yoshi ci saluta. Questa però è da infami, eh. Eh, niente. Il problema è che anche la fiammellina che lascia dietro ti fa male, quindi... Oh, Dario. Eccolo lì, il nostro amico. Eccolo. Ah. Ma... Bello. Cioè, sensato, più che... Dove sono le fiamme? Poi non le vedi, perché... Yoshi! Ciao. Ok. Godo Sì ci stava bene lanciare il tetto Dai Dario Quel cuglione finale mi sa Guarda avete visto cosa è successo Sì benissimo Che posso fare così Godo Lo potevo fare anche con la fiamma Vabbè Dario Godo Godi ma con calma però Ok dovrebbe essere l'ultimo livello Funky Scappare Vai Yoshi Non lo voglio nemmeno vedere sto livello Oddio l'ho bugato hai visto Ho toccato lo schermo Non so dove sono finito Chissà cosa c'era poi Ah bastardo Vabbè ci sta ci sta Eh potevo fare diversamente Però vabbè sti cazzi Mori Tronzo Questo è buono Questo è buono Vabbè Vabbè non me ne frega un cazzo No Yoshi Vieni qua Vieni qua Vabbè dai è andata così Mi sono fatto prendere dalla foglia Forza Non è fatia Bravo Dario Ma sta Boia Che colpaccio Questo Questo è proprio un colpaccio Vabbè 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 No Non mangia le palline Yoshi Vaffanculo Ecco You You are A super Player Ah Vado Grazie I dance I Fatta Oh Ti colora il mondo Ti colora il mondo In maniera diversa E fatta ragazzi Completato Al cento per cento Ci rilassiamo un attimo Ite A Grazie a tutti.